ed eccoci qua ben ritrovati fifa 22 carriera allenatore con la nostra slizinger torniamo a giocare una partita di campionato contro la roma fc io vi chiedo scusa in anticipo la mia voce non è proprio delle migliori quest'oggi ma sono stato allo stadio veramente e questo è il risultato la voce è rimasta un pochettino allo stadio bando alle ciance direi di andare a giocarci questa partita allora la formazione come avete sono queste qua ho fatto qualche piccolo cambiamento ho voluto provare a fare un secondo schema magari per sfruttare al meglio tutte le varie caratteristiche dei giocatori oltre al nostro classico 433 in contenimento abbiamo anche questo 4 4 2 in linea per sfruttare le due punte quindi oggi proveremo a giocare con questo schema qua chi lo sa come andrà a finire andiamo in campo queste sono le formazioni via ed eccoci pronti stadio olimpico in roma roma fc contro slizinger importante il rientro quest'oggi di scamacca dopo l'infortunio vedremo se sarà in grado di darci il suo contributo in questa delicata ed importante partita contro la roma e della gente di tutte le balla per miki tarjan intervento duro ma corretto e scamacca che riesce a recuperare un pallone parte subito il contropiede grande scamacca che ci prova se ne va se ne va la mette in me poteva e doveva fare decisamente meglio invece qui non mi è piaciuto ha monopolizzato l'attenzione dei media alla vigilia di questa gara errore di scamacca errore brutto convocazione invece non solo alla valora avversaria ma ovviamente occhio al risolto energetico lan riesce di partire in contropiede ancora una volta slizinger non perde le sue comunque caratteristiche di difesa e contropiede palla per lopez che la mette in mezzo anticipato scamacca purtroppo palla per zagnolo zagnolo che salta il difensore ma esposito la fa sua non riesce a riprenderla comunque palla in calcio d'angolo e ancora una volta esposito che ci cava le castagne dal fuoco incredibile ancora esposito mamma mia ragazzi senza questo portiere credo che la nostra stagione avrebbe avuto decisamente un esito differente è ancora esposito non riusciamo ad intervenire sul pallone difesa un po' imbambolata però insomma esposito ci continua a mettere grandi pezze veramente questa volta michi tariana ci pensa da solo con zagnolo insomma a buttarla fuori palla per carbone che entra in aria e ci prova parata del portiere lui patricio palla vaga scamacca scamacca ci prova entra in aria scamacca gran tiro fuori di un non nulla però scamacca c'è grande swamberg che recupera una grandissima palla in mezzo al campo la mette ancora per scamacca scamacca vada solo ci prova viene fermato dal difensore ancora carbone che recupera palla si invola solo contro lui patricio carbone ipnotizzato da lui patricio aia da qui non si passa finisce il primo tempo finisce qua il primo tempo reti inviolate fra roma e slicinger buona occasione da entrambi le parti il risultato che rimane a rietti inviolate 0 a 0 non ci sono modifiche la nostra formazione secondo tempo roma slicinger partiamo ancora swamberg con un lavoro a centro campo incredibile veramente scamacca poi sbaglia tutto peccato mamma mia non riescono a intervenire i nostri difensori altra occasione spregata dalla roma fc partita abbastanza bloccata vediamo se riusciremo a sbloccarle in qualche maniera palla per caio giorgi che fino adesso non si era visto e viene fermato dal difensore in maniera impeccabile c'è pressione attenzione gran bello scambio fra scamacca e caio giorgi la palla finisce a carbone carbone la mette in mezzo spalacchia però un cross veramente brutto trasto deciso e zago recupera ancora un pallone la dà in profondità per se stesso perché carbone non ci arriva la mette in mezzo spalacchia però un cross veramente brutto decidono di pressare il portatore di palla pressing di caio giorgi che a fortuna recupera un gran pallone caio giorgi si invola dentro l'area caio giorgi ruy patricio ancora un po egoista qualche giorgi forse doveva metterla in mezzo per il compagno ormai inutile piangere sul latte versato calcio d'angolo anticipato ancora il difensore e purtroppo questa azione non va rimane invariato lo 0 a 0 ci prova ancora slicinger con questa fuga sulla destra di tre ore che è entrato al posto di carbone tra ore ancora tra ore ancora tra ore si mette in proprio tra ore e riesce ad infilarla incredibilmente tra ore 1 a 0 slicinger all'ultimo respiro tra ore gran gol rivediamo l'azione non le riguardo mai però questa è veramente molto molto bella gran palla sul primo palo ruy patricio non proprio indenne da colpe però una 0 slicinger a me va bene così ancora swamberg che recupera un gran pallone caio giorgi la mette ancora per swamberg che lotta ma non riesce ad andare in profondità ma recupera ancora maxim lopez per caio giorgi per scamacca che viene ancora una volta anticipato manca poco e finisce qua finisce qua la partita 1 a 0 slicinger scorsale in trasferta vittoria non proprio del tutto meritata però è arrivata e va bene così e dopo questa vittoria rocambolesca intervista dopo partita vediamo un po cosa hanno da chiederci quanto è influito rieto di scamacca su questa vittoria vabbè dai è ripartito con il piede giusto stiamo tranquilli perché in realtà la vittoria è arrivata in maniera molto molto rocambolesca è stato un match equilibrato fino alla fine avete trovato il gol vittorio negli ultimi cinque minuti con un po di fortuna è d'accordo ma direi di sì comunque un po di fortuna ogni tanto non guasta dai un pochettino di fortuna ci può tranquillamente stare anzi ci deve stare siete visitazioni con il citivo ribaltare il risultato pensava di vincere visto che le due squadre venivano considerate sullo stesso livello alla vigilia sapevo che ce l'avremmo fatta sboroni fino in fondo mi fido dei miei giocatori certo che sì ok ragazzi siamo tornati ancora una volta acqua in campionato e dopo la rocambolesca vittoria di roma che ci proietta vediamo un po la classifica siamo terzi in classifica ad un solo punto dalla milan ea ben sei punti dall'inter quindi in piena lotta ancora per il campionato anche se le nostre vellità di inizio stagione il campionato non ci pensavamo assolutissimamente però a questo punto siamo in ballo quindi cerchiamo di ballare in tutto e per tutto prossima sfida contro il torino direi di confermare anche questo 442 in linea questa quella formazione abbiamo fatto un paio di cambi tra ore si è meritato decisamente la conferma in squadra dopo la bellissima prestazione e il gol vittoria che ci ha regalato nella scorsa partita quindi rientra clean diamo un turno di riposo e zeugo il centrocampo e l'attacco rimane così invariato queste le formazioni dunque andiamo in campo si accendono i riflettori ed eccoci qua bui toni stadium slice in giara contro torino torna lo spettacolo della serie a con tutte le emozioni ai grandi protagonisti 1 a 0 dopo appena sei minuti di gioco grazie per l'aggiornamento puntuale come sempre e intanto subito Caio Giorgi per Scamacca che parte in contropiede Scamacca tocchetto leggero leggero secondo me la anche ci abbattate un pochino ma il risultato è quello che conta 1 a 0 Slicinger Scamacca che finalmente torna alla gol 1 a 0 per la Slicinger contro il Torino ancora Scamacca che dice un rimpallo ci prova il portiere del Torino dice di no mamma mia Belotti il gallo traversa incredibile esposito questa volta non ci sarebbe arrivato quindi un po' di fortuna che non guasta palla per Svanberg che se ne va assolutamente incredibile azione di Svanberg che la mette in mezzo Caio Giorgi non va ancora Svanberg la mette in mezzo rimpallato in angolo mamma mia scusatemi sono rimasto impressionato rinvio del portiere incredibile difesa che si è fatta trovare letteralmente impreparata e pareggio del Torino non va peccato il portiere del Torino nega la rete a Caio Giorgi fine del primo tempo 1 a 1 direi risultato buono partita un pochettino meno però seconda frazione di gioco Buitoni Stadium Slicinger a Torino dobbiamo portare a casa questi tre punti quindi ci riproviamo e andiamo è grandissimo Lan che si invola riesce a mettere in mezzo una palla osiere dire perfetta e Scamacca insacca la rete del 2 a 1 grandissima azione rivediamola Lan se ne va la mette in mezzo perfetta pennella una palla incredibile e Scamacca non può far altro che insaccare 2 a 1 torniamo in vantaggio adesso vediamo di non farci riprendere ancora una volta Pellegrini la mette in mezzo Lan parata incredibile del portiere ancora Svanberg che riparte in contropiede se ne va benissimo palla per Caio Giorgi che riesce a resistere al difensore Caio Giorgi ancora la mette in mezzo e confusione totale confusione totale ho sbagliato un paio di tasti ma la fortuna mi assiste Scamacca ancora rete del 3 a 1 mamma mia quanto è andata bene ragazzi non credevo di farcela qua ho sbagliato i tasti invece di tirare l'ho appoggiata e poi il resto l'ha fatto il fattore C diciamo il fattore C è stato determinante 3 a 1 e speriamo di averla messa in ghiaccio è in buona posizione palla ancora per Lan che si invola frenata, sterzata, non riesce si invece la mette ancora in mezzo Scamacca per il poker non va Caio Giorgi 4 a 1 e vai ancora grandissima azione di Lan che è riuscito con una magia a rimetterla in mezzo 4 a 1 per Slicinger niente, niente male davvero corre al battuto in mezzo libera male sul traversone occhio palla sul legno ma attenzione traversa anzi palo del Torino che ci preserva da una figuraccia ma però contro il piede che parte con Carbone che è entrato al posto di Lan la mette adesso in mezzo vediamo chi calcia allontana il difensore su questo tiro parata del portiere sul tiro di Caio Giorgi palla ancora per Caio Giorgi che non si avvede del pallone non so per quale motivo ma ha cambiato il segnalismo va bene così ragazzi meraviglioso FIFA a volte veramente meraviglioso e va bene Belotti che ci prova ancora brutta difesa qui palla ancora pericolosa e finisce qua la partita si torniamo alla vittoria anche abbastanza roboante Scamacca si porta la palla a casa per la tripletta e noi andiamo a fare l'intervista dopo partita non capita tutti i giorni di segnare una tripletta come giudica la prestazione di Scamacca già lo so è stato prestazione superlativa dai gaziamolo più di quanto non si è gasato la squadra Slizinger è imbattuta fin qui in Serie A Team pensa di riuscire a proseguire questa striscia ma come è imbattuta fino a qua abbiamo perso e come mamma mia dai applaudiamo i giocatori c'è un motivo se siamo imbattuti anche se in realtà abbiamo perso vabbè comunque avete vinto di nuovo pensa che la squadra Torino si sia risparmiata cosa? è merito dei ragazzi vabbè benissimo signori miei finisce anche questa puntata di FIFA 22 carriera allenatore con la nostra Slizinger prossima puntata che ci vedrà impegnati nel ritorno di Coppa Italia contro l'Udinese quindi partita molto molto importante poi Inter e forse vediamo un po' se riusciamo a fare anche la Fiorentina in campionato comunque molto sarà incentrato sul vedere se riusciremo a raggiungere la prima finale di Coppa Italia della nostra storia detto questo ragazzi è tutto per oggi e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao Grazie per la visione!